Si è inaugurato ieri, presso la sede romana del CNR, il sessantesimo congresso della Società Astronomica Italiana dedicato all'astrofisica delle grandi infrastrutture. Ne abbiamo parlato con Roberto Bonanno, presidente della SAIT e direttore dell'Osservatorio Astronomico di Teramo. Il congresso della Società Astronomica Italiana sta diventando sempre di più gli stati generali dell'astronomia italiana e tutto sommato è positivo che sia un'organizzazione esterna a fare il punto delle attività presenti e delle prospettive dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Infatti discuteremo del stato attuale dei progetti, di quelli fra qui a vent'anni e discuteremo dell'organizzazione di questi progetti e della didattica che è il core business della Società Astronomica. Di grandi infrastrutture e della partecipazione dell'INAF a questi progetti di respiro internazionale che detteranno il futuro dell'astrofisica nei prossimi decenni, parliamo invece con Nicolo D'Amico, presidente dell'INAF. L'INAF gestisce già grandi infrastrutture e partecipe di infrastrutture all'estero come LBT, TNG, ha grandi infrastrutture in Italia, si sta proiettando nelle grandi infrastrutture del futuro. Sky e CTA sono un esempio ma siamo pesantemente coinvolti in ILT. è un gioco grosso che dovremo giocare con molta attenzione ma sicuramente abbiamo delle ottime opportunità.